Giro di Sol Storie di artisti, professionisti e imprenditori Persone che sono riuscite a fare della musica la propria carriera Conosciamo chi sta sotto i riflettori e chi ci sta dietro Insegnanti, fonici e commercianti Un percorso dietro alle figure professionali che circondano il mondo della musica Io sono Marco Bertolucci e questo è Giro di Sol su Radio Sankara Bentornati e bentornate su questo nuovo episodio di Giro di Sol Io sono Marco Bertolucci, sempre qui su Radio Sankara Siamo qui di lunedì mattina negli studi di Radio Sankara E l'ospite di oggi è un amico, è un ragazzo che conosco da tanti anni E la prima volta che lo vedevo suonare eravamo al Tequila Sunrise Abbiamo condiviso quel palco di 15, 16, 17 anni, erano quella l'età E oggi, a differenza mia, sta facendo un po' di carriera Sta facendo le sue prime esperienze come chitarrista professionista Sto parlando di Alessandro Martini Ciao a tutti, grazie per avermi invitato qui a Radio Sankara Di lunedì mattina Tu sei, si discuteva prima su com'è che si definisce il nome della tua professione Turnista Sì, allora, o session man se vogliamo essere internazionali Anglofone Allora, sì, sono turnista Quindi presto la mia chitarra fondamentalmente ai progetti che ne hanno bisogno Sia in studio che dal vivo Specialmente sono stato attivo parecchio dal vivo Nell'ultimo anno e mezzo E dove mi sono girato un po' l'Italia con vari progetti Bello, bello Abbiamo visto un sacco di foto Ho visto un sacco di foto Prima domanda è ovviamente Quando e come inizi a suonare? Allora Ho iniziato a suonare da bambino All'elementare, credo, a un corso dopo scuola Chitarra classica La cosa mi appassionò Chiesi ai miei genitori Dopo qualche anno di lezioni Di farmi frequentare il conservatorio Al Boccherini a Lucca Però in realtà alla fine fu un'esperienza che non mi prese proprio Quindi dopo qualche anno mollai E cominciai a suonare la chitarra elettrica Mi appassionai, mi sono un po' appassionato a questa cosa qui Ti parlo, avevo, sì, quel periodo che hai detto te Quando avevamo 16 anni così E dopodiché ho frequentato Fino al secondo livello delle Accademie Lizard Dove ho preso i diplomi con il maestro Fabio Bonci E dopo basta Perché è venuta la pandemia E quindi mi sono un po' Mi sono un po' fermato da quel punto di vista lì E subito dopo la pandemia ho iniziato a lavorare come chitarrista E prima invece della pandemia ricordo invece che avevi un bel po' di band attive Insomma hai avuto un bel po' di band attive Sì, qui nel circondario a Viareggio avevo una band che erano i The Berries E lì ho fatto le mie prime esperienze Si facevano un sacco di concertini, sai, in tutti i barettini Quelle cose che in realtà mi sono servite dopo perché è la cosiddetta gavetta Che mi è servita tanto, soprattutto a livello mentale Per districarmi magari in alcune problematiche, in alcune situazioni Anche sul palco Perché comunque sia c'hai la mente un po' allenata Perché hai visto quando ti ritrovi a suonare in un baretto Dove hai un cavo in tre Capito? Sì, lo capisco Dove entrate in quattro nello stesso amplificatore Farà anche Ti sarà servito anche per poi lo spirito di squadra Sì, sì, sì Per farciare con altri membri Sì, per fare spogliatoio Comunque sia, quelle cose lì Sì, sì E te ora l'hai descritta come Se quelle volte lì che ci si vedeva Erano le tue prime esperienze Però io mi ricordo che fin da quando ti conosco Sei sempre stato il chitarrista Nel senso, ti si guardava tutti come quello sa fa a suonare Eh, diciamo che Però le scrivi come i tuoi primi tempi Cioè ci offendi se fai così Non ci dici No, era già dieci anni che suonavo Eh, no, no In realtà no Perché diciamo che ci ho passato tanto tempo Quando ero ragazzino a suonare Cioè ci stavo veramente tante ore Tante ore Forse anche troppe Diciamo Ecco, uscivo poco E quindi sì In realtà sì Era veramente poco tempo Cioè E allora Avrai avuto il dono Fin dall'inizio Dai, diamo subito questa Batosta ai bambini che ci ascoltano No Se va allenato No O siete subito Grandissimi No, non è vero Ma No, io credo che Ecco, una cosa importantissima E che Gli ne sono molto grato Ai miei genitori È stato quello di Avermi fatto sempre ascoltare Un sacco di musica Dove Insomma Tipo musica Anni 70 80 Queste cose qui E quindi Fin da bambino Anche prima di iniziare a suonare Ho avuto un orecchio Portato Diciamo Per quei suoni Per quelle cose lì Che mi ha Aiutato un sacco Ecco Che quando mi sono ritrovato a suonare I primi tempi Sapevo già O comunque sì Avevo in mente Come Volevo sviluppare Ecco la cosa Esattamente Cioè il mio obiettivo Di Abilità Diciamo Volevo fosse Quello Poi Non ci sono riuscito Ovviamente Perché insomma Ascoltavo Hendrix Ascolto tuttora Hendrix Le Zeppelin Queste cose qui E quindi non mi metto nemmeno Sullo stesso Cioè è un altro sport Ovviamente Però insomma Quello mi ha aiutato tanto Ecco Soprattutto per la ricerca Del suono Ricerca del suono E suoni Di cui poi Ne parleremo Più con calma dopo Parliamo invece Degli inizi Della carriera Che stai vivendo adesso Che se non sbaglio Sono in concomitanza Con la collaborazione Con la clinica di Ischi Sì esatto Io sono entrato Con la clinica di Ischi Che è un'etichetta discografica Con base a Spezia Da prima come artista E ho pubblicato un album Con sotto lo pseudonimo Questa parola Di Martini Con la Y Che è stato Un'esperienza molto formativa Per me Perché mi ha Fatto mettere un piede In questo mondo Della musica Professionale E è stato molto interessante Perché mi sono reso conto Di meccanismi Di cui ignoravo L'esistenza Come ad esempio Per dire Banalmente I booking Che ti trovano I concerti Tutte queste cose qui E mi ha aiutato 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 Esatto E tutte queste cose qui Ovviamente È stato Molto importante Per me Entrare In una situazione Dove Ovviamente Non sono più Autogestito Ma ho un management Che tuttora Esiste Che è sempre Sono sempre gestito Dalla clinica di Ischi A livello di management E è stato molto importante Anche perché è stato Il primo approccio Con uno studio Di registrazione Che è Insomma È una bella realtà È molto figo È molto figo Poi specialmente Gli studi della clinica Sono veramente belli Cioè hanno proprio Un'attrezzatura Super figa Quindi è È un bel contesto Ecco dove In cui trovarsi È un'etichetta Che ti accompagna Anche dell'autoproduzione Cioè non solo Di idea artistica Ma Assolutamente Sì 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 Perché ovviamente Loro hanno Gli studi di registrazione Dove ci sono I produttori Marco Barbieri E Leonardo Lombardi Che Leonardo Ha prodotto Il mio primo disco E quindi Anche quella cosa lì A me Per me era Sconosciuta Cioè che ci fosse Un produttore Quindi è stato Molto Molto bello Formativo Ecco sì E hai anche conosciuto Gli artisti Che stai accompagnando adesso Sì perché Si è creata Una bella realtà Una bellissima realtà All'interno Appunto Di questa etichetta Quindi dove Si è creato Appunto Un Definirlo collettivo No perché è più Di un collettivo Perché comunque Siamo legati Molto da un'amicizia Quindi è proprio Un termine di amicizia Questa cosa qui E ovviamente Con lo svilupparsi Delle cose Ognuno ha preso La sua strada E quindi Mi sono reso conto Dopo la pandemia Che quello che volevo fare Veramente Era suonare la chitarra Quindi mi è stata data Questa possibilità E quindi ho iniziato La carriera Di turnista Quindi Segui diversi progetti Come comunque Martina Con cui sono in tour Al momento Sveglia Ginevra E Apice Ok quindi Quello con cui Stai lavorando Al momento Di gruppo È proprio Comunque Martina Sì esatto Abbiamo Siamo in tour Da Fine febbraio Abbiamo girato Un po' Tutta l'Italia Abbiamo L'ultima data Avremo l'ultima data Di questo tour Pasquetta A Catania Cavoli Sì 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 Pasquetta a Catania Esatto Infatti Sono molto contento Anche perché Fare questo lavoro Mi ha permesso Di girare l'Italia Cosa che io non avevo Mai fatto Quindi di vedere Un sacco di posti Seppur In una finestra Temporale Molto breve Perché ovviamente C'è sempre Pochissimo tempo Però mi ha permesso Di vedere Un sacco Di città E come vi muovete Nella pratica Per curiosità Vabbè Dipende Dipende ovviamente Cosa Che situazioni sono Quanti siamo L'attrezzatura Che uno deve portarsi Di norma Abbiamo un van Se no ad esempio Per questa data Qui in Sicilia Con in aereo Sì perché Sì sì Insomma sarebbe Un po' lunghina Due giorni di lavoro In più Esatto E sull'aereo Ci sei già stato Sull'aereo Sì ma non in Italia Cioè non ho mai preso Un aereo No dico con la chitarra Ah no mai Mai Infatti L'avrò lì accanto a me Sul Per me sarebbe Non so Un po' strano Ecco Sì sì no L'avrò lì accanto a me Perché non voglio Assolutamente Metterla in stiva Perché ho visto Fin troppi video Di strumenti distrutti In questo modo Quindi La terrò con me Sì 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 È un pensiero Che c'ho sempre avuto Ma quando la gente va in giro Con l'aereo Gli effetti Tutti i cavi Le cose Ovviamente Tutto ridotto Al minimo Cioè tutto Straridotto al minimo Porterò appunto Tre effetti Due robe Non porto nemmeno L'amplificatore Ok Però la chitarra Ovviamente sì Per forza di cose E quindi me la porto Su in In cabina passeggeri Un posto Esatto Esatto Sì Seggiolino Quanto spende la chitarra Per il periodo Guarda non lo so Ma a qualsiasi prezzo Vale Vale Quindi Bello bello E con il Quando andate Invece In van Te dicevi Siete un team Non siete solo musicisti Sì ovviamente C'è tutto il team Che segue ovviamente L'artista Che non è fatto solo Ma dai musicisti Ma anche management E quindi è molto interessante Perché appunto Ti fai Delle belle Sono belle esperienze Comunque sia Che uniscono È sempre molto bello Viaggiare tutti insieme E ovviamente Abbiamo anche Un bel po' Di attrezzatura Dietro Poi ne parliamo Con attenzione Della tua attrezzatura Tanto ti chiedo Un brano Che vorresti far passare Magari Qualcosa di formativo Sì allora C'è un artista Che mi sta piacendo Particolarmente Che mi ha fatto ritrovare L'amore per la chitarra Con una wave Anni 70 Che è Marcus King E il brano è A hard working man Perfetto Allora Senza ulteriore indugio Ci andiamo a sentire A hard working man I can't wait Grazie a tutti. 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 a tutti.